Bonus Energia Schifani e Tamaio con l'approvazione dell'Europa, aiuti per tutte le aziende richiedenti, sostegno per 3.484 imprese che hanno presentato in stanza. Giuliana Viciche. Grazie all'approvazione della Commissione Europea, tutte le 3.884 imprese che hanno presentato in stanza per il Bonus Energia Sicilia riceveranno il sostegno previsto dal bando. Così annuncia l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio, commentando il semaforo verde della Commissione di Bruxelles a regime di aiuti di Stato da 150 milioni di euro per sostenere le imprese dell'isola costrette in difficoltà dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Si tratta del bando pubblicato dall'assessorato regionale alle attività produttive lo scorso 31 dicembre, già finanziato con risorse europee e destinato alle aziende attive in Sicilia in tutti i settori, eccetto agricoltura primaria, pesca e settore bancario, per compensare l'aumento dei costi di gas ed elettricità nel 2022. Il Bonus Energia Sicilia è stato fortemente voluto dal mio governo, sottolinea il presidente della regione Renato Schifani. Adesso l'approvazione da parte della Commissione europea consente di fornire questo sostegno alle imprese messe in ginocchio dal caro bollette del 2022, aiutandone così a superare le difficoltà finanziarie determinate dalle conseguenze del conflitto ucraino. «È un risultato importante poter riuscire a soddisfare tutte le richieste presentate dalle aziende senza lasciare fuori nessuno», conclude. Più nel dettaglio la Commissione ha rilevato che il bonus è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione degli aiuti di Stato, adottato per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili fossili. In particolare l'aiuto non supererà i 20.000 euro per aziende e sarà concesso entro il 31 dicembre 2023. Inoltre il regime di aiuto è stato valutato come necessario, appropriato e proporzionato. Il contributo per le aziende è stato stabilito in funzione del fabbisogno di liquidità determinato dalla crisi energetica che ha calcolato in percentuale il 30% sull'aumento rispetto alle tariffe 2021 del costo energetico, gas elettrico, entrambi, riferito al periodo dal 1 febbraio 2022 alla data dell'ultima fattura di fornitura disponibile. Alle imprese che hanno registrato un aumento minimo di 5.000 euro è stato concesso un aiuto massimo di 20.000 euro per ogni singola azienda. E l'assessore Tamaio aggiunge È un risultato importante raggiunto anche grazie a un lavoro di squadra tra i Dipartimenti Attività Produttive e Programmazione che hanno lavorato su questa misura insieme con l'Ufficio Legislativo e Legale.